Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi martedì 10 maggio 2016 in diretta come sempre tutte le mattine sul canale 17 di Fano TV. Ben ritrovati cari telespettatori. Cominciamo subito dal santo del giorno poi vediamo i giornali. Allora il santo di oggi è San Giovanni d'Avila. Il sole è sorto alle 5 e 47 e tramonterà le 20 e 22 minuti. Il tempo per oggi avremo nella prima parte della giornata deboli piovaschi sparsi più probabili nelle zone collinari. Le temperature sono stazionarie o in lieve aumento per domani. Mercoledì 11 maggio ancora precipitazioni deboli diffuse a locali di carattere di rovescio più insistenti nelle zone dell'entroterra. I fenomeni saranno comunque in attenuazione nella serata. Le temperature sono in lieve diminuzione nei valori massimi. Per la giornata di giovedì ancora tempo perturbato soprattutto lungo il crinale appenninico in particolare nei versanti esposti ad ovest e locali invece precipitazioni altrove. La parte finale di questa settimana si presenterà l'insegna del tempo variabile con un transito di nuvolosità e qualche piovasco in particolare comunque nelle zone dell'entroterra. Cominciamo a leggere i giornali partiamo dal resto del Carlino. La pagina principale una fotografia è quella degli austriaci pesaresi, padre e figlio. Padre e figlio sono stati scelti come testimonial turistici per la carinzia. Il titolo è Gli austriaci siamo noi ed ecco anche la fotografia, la prima pagina di questo inserto turistico dove appunto sono ritratti padre e figlio. Ma sempre nella prima pagina del quotidiano bolognese c'è sotto la testata la notizia di una telefonata minatoria di minaccio al procuratore Manfredi Palumbo raggiunto da un anonimo sul suo cellulare privato una voce che ha detto abbiamo rapito un tuo parente. Naturalmente sono scattate subito le indagini. Bimba accarezza il cane ed è stata zannata al volto, lo vediamo subito sulla pagina di Fano con la la fotografia ha una ferita di 5 centimetri sulla guancia, le hanno messo i punti, è una bambina di 7 anni che è stata zannata sabato mattina in casa di amici, si è avvicinata all'animale da dietro per accarezzarlo, lui il cane non l'ha vista e si è istintivamente difeso. Al pronto soccorso i medici hanno sotturato la ferita e ha avuto 15 giorni di prognosi. Il galà dei commercianti sull'altra pagina del Carlino, il galà dei commercianti dove tra l'altro c'è anche Fano TV tra gli organizzatori, una settimana dal finale la battaglia in furia, si parla chiaramente della classifica provvisoria tra chi, tra coloro, tra gli esercenti che partecipano a questo galà. Città a misura di bimbo non è certo il poderino, critico il comitato del quartiere, il Movimento 5 Stelle spara a zero, la protesta, le iniziative promesse sono saltate e mentre a Marotta il motociclista chiede la revoca dei domiciliari, Andrea è ancora in coma, lo schianto lo ricorderete avvenuto il 30 di aprile scorso. Poi magnete sul contatore per non pagare la luce, l'Enel sbaglia, querela e si rifà sugli altri utenti. Ecco come l'ente recupera il danno provocato da furti e truffe, un caso non eccezionale, la decima volta in poco tempo che i giudici sono costretti ad archiviare. Sempre dal Carlino, tra i tanti candidati di Fossombrone c'è pure il disjockey, Corsa al Sindaco, Chiarabilli, Bonci e Vico. Verso le comunali anche a Fermignano dove sono state presentate cinque liste e il Carlino questa mattina pubblica tutti i nomi dei candidati. Apriamo il Corriere Adriatico, la pagina di Fano, qualità della spesa e stop alla corruzione. Le richieste dei 13 comitati che giovedì si incontrano a tre punti per difendere la rete dei servizi. A Orciano, invece, la voragine da sette mesi, ancora lì, cittadini indignati, lettera aperta agli enti con 430 firme, gravi disagi, subito il ripristino della viabilità. Grido di rabbia e di aiuto per un celere intervento, eppure la multiservizia un utile di 9,2 milioni di euro. Pesanti conseguenze per il traffico deviato e i danni alle attività commerciali. Gli edifici con stabilità a rischio. E la frana è stata immortalata anche nelle cartoline. Saluti da Orciano, anche l'ironia nella giusta dose può sortire i suoi effetti. A Marotta, invece, anzi a Ponte Sasso, l'altra sera, domenica sera, un giovane marottese, si schianta con l'auto, l'auto poi prende fuoco, perché questo ragazzo ha tentato, che ha 23, che questo ragazzo tentava di farla ripartire, in realtà ha fatto peggio, il motore ha preso fuoco. E quindi, per fortuna, insomma, non si è fatto male, ma insomma, si è rivista un po' brutta. Andiamo sulla pagina adesso di Fano e Valle del Cesano del Corriere, perché a Sant'Ippolito preparano la festa per il centenario che, tanto successo, sta riscuotendo in questi mesi, soprattutto dopo il Festival di Sanremo, Giuseppe Ottaviani, 100 anni, che ancora in attività, è ancora, corre, ancora fa attività sportiva. Ebbene, il 20 di maggio prossimo, Giuseppe Ottaviani, pluricampione, ancora in attività di Athletic Indoor, compirà 100 anni e dunque il sindaco Stefano Tomassetti, con i cittadini, insomma, a Sant'Ippolito, stanno organizzando questa grande festa per celebrare questo centenario, che non è solo un centenario, ma insomma è uno che in qualche modo con la sua testimonianza dà speranza. A Senigallia, invece, sul lungomare ci saranno, verranno ricavati 500 posti auto, un parcheggio all'ex colonia Enel del Cianin, ai turisti 40.000 card per avere e per viaggiare sull'autobus gratuitamente. La cronaca sulla seconda pagina del Corriere, con l'inseguimento di un uomo che cerca di prendere il ladro e di recuperare il denaro. Un passante vede il malvivente rubare in un'auto e interviene. E lui dice semplicemente ho fatto il mio dovere. Parla questo uomo, Fabrizio Capilupo, e dice racconta, correvo e ho urlato, fermatelo, perché c'era tanta gente, ma nessuno si è mosso. La lotta per la vita di una donna che è rimasta ostionata in casa, dove sono divampate le fiamme, la giovane resiste, tiene duro infatti il suo cuore, il cuore dell'assistente familiare, ostionata a Corinaldo. La polacca è ancora in coma, ieri avrebbe dovuto riprendere il corso da operatrice socio-sanitaria. Chiudiamo la rassegna con le pagine del messaggero, questa è quella di Pesaro, acido, sentenze da confermare, l'augurio dei familiari di Lucia Nibali che raggiungeranno da Roma a Roma la figlia per l'ultimo giudizio, oggi il verdetto della Cassazione, la difesa di Luca Varani spera nell'annullamento del tentato omicidio. A centropagina Baia, dalla Baia Sottomonte, liberi di tuffarsi, tuffi e bagni concessi ovunque a Pesaro, il Comune è pronto a ritirare la dodicesima bandiera blu consecutiva, resta comunque il problema dei ripascimenti. La pagina di Fano invece, eccola qua, sull'ospedale unico il tema ancora è caldo, giorni di fuoco tra mozioni e assemblee e cortei, il dibattito si concentra su tre fronti, il Consiglio Comunale odierno, l'incontro di giovedì e la manifestazione di domenica. La Regione deve riconsiderare le proprie decisioni in città come nell'entroterra, si avverte comunque una carenza di servizio. L'incidente è avvenuto da Trecastelli, eccolo qua, il motociclista che è stato travolto, un uomo di 57 anni di Mondolfo, rimasto gravemente ferito in questo incidente, rassicura tutti su Facebook, adesso dice sto meglio, adesso sto un po' meglio, ha scritto quest'uomo travolto domenica appunto all'altezza di Ponterio di Trecastelli e poi sotto quel che resta della città dei bambini 25 anni dopo tra flop e voglia di rilancio. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, ci rivediamo domani mattina alle 7.30 come sempre puntuale in diretta, mentre stasera alle 8.30 c'è Occhio alla Notizia, il telegiornale. A voi tutti gli auguri di una buona giornata. Grazie a tutti.